Più di 200 spettacoli, rassegni e laboratori, tutti ad ingresso gratuito da settembre a dicembre, si terranno in città nell'ambito dell'ampio e imponente progetto culturale Affabulazione. Un programma vastissimo, realizzabile grazie ai contributi del Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero della Cultura, che ha destinato al Comune di Napoli circa 2 milioni di euro. Un progetto molto importante che impegna tantissimi artisti, artisti molto famosi, ma anche artisti emergenti, che vedrà tutti i centri della città, quindi la nostra Napoli policentrica, animati da iniziative teatrali, musicali, che riguardano la danza, tutte quelle che sono le arti, più di 200 eventi estremamente qualificati ed è un'occasione importante per la città per continuare ad animare tutti quelli che sono i luoghi di Napoli. Dopo lo stop forzato della pandemia, tornano in scena le arti, dal teatro alla musica alla danza, ad animare le aree periferiche della città. 24 le proposte progettuali che coinvolgeranno il territorio fino a dicembre, non solo in teatri come il Nest, il Teatro Area Nord e il Cinema Teatro Pierrot, ma anche in luoghi insoliti e di fascino, tra cui la Masteria Luce, la Chiesa dei Santi Cosmo e Damiano, il Museo di Pietrarsa. Il progetto si terrà nella periferia di Pianura Soccavo, si chiama Le quattro morti di Pierpaolo Pasolini e nasce dalla mia osservazione di alcuni dipinti di un vecchio amico pittore, Nicola Verlato, che ha realizzato un intero ciclo pittorico su Pierpaolo Pasolini, in cui colloca la morte di Pasolini in una serie di scenari affini, ma altri. Si sta realizzando insieme a tutta una serie di realtà importanti che operano nelle periferie di Napoli, prima fra tutte Archimovie. È un progetto, devo dire, piuttosto unico perché è già eloquente il fatto che un progetto di drammaturgia contemporanea venga messo in scena da un regista della Fura del Spaus, che invece è notoriamente un gruppo di teatro urbano. Presentata nei laboratori artistici della Fondazione Teatro di San Carlo a Villena, scenario in questi mesi di eventi ed attività, la rassegna sarà fluibile anche ad un pubblico diversamente abile e prevede un programma di attività laboratoriali ed opere originali mai portate in scena. Questo è uno spazio del San Carlo per i giovani, che speriamo possa in futuro formare giovani per i mestieri del teatro. Abbiamo iniziato con una serie di progetti che riguardavano la rigenerazione urbana, dai corsi di scrittura, ai corsi di design, di scenografia, di falegnameria. È uno spazio fondamentale, il San Carlo deve esserci e in una Napoli diffusa. Il calendario completo sarà consultabile sul sito istituzionale e sui canali social Cultura Comune di Napoli in costante aggiornamento.